Salve a tutti amici amanti dei bei libri e delle letture ad alta voce. Protagonista di questo episodio dei La narratrice di sogni sarà Stefania Convalle con Lo specchio macchiato del tempo, pubblicato da Convalle Edizioni. Leggo per voi la trama. Tra i luoghi romantici della vecchia Milano, Minerva, attrice innamorata dell'amico regista, interpreta Alice, che si muove e lavora in una trattoria insieme ai personaggi di un film di cassetta. Le loro vite, per uno strano e inspiegabile corso del destino, arriveranno a toccarsi e confrontarsi. Insieme a Vittoria, in una storia fatta di silenzi e misteri sui quali fare luce, finiranno per trovare una precisa identità. Esponendo dubbi e incertezze, useranno la loro forza per proseguire. Decideranno di affrontare eventi presenti e fantasmi del passato, senza l'esigenza immediata di scoprire le loro soluzioni, limitandosi a procedere secondo quanto previsto dai copioni delle loro esistenze, imparando che non si debba restare in attesa di una risposta, perché questa potrebbe non trovarsi che proprio all'ultima pagina. A questo punto vorrei leggere per voi un brano tratto dalle prime pagine dell'opera. Viene qui ogni giorno. Si siede sempre allo stesso tavolo, quello nell'angolo. Appoggia le sue cose sulla sedia a fianco a lei, posa il cellulare al lato vicino al tovagliolo, sfila gli occhiali e li sistema perfettamente allineati al telefono. Resta così qualche istante, come se dovesse raccogliere le idee e aspetta che io vada da lei per dirle qual è il menù del giorno. Mi sistemo i capelli, aggiungo il grembiule, mi avvicino con la lista. Le sorrido. Anche lei mi sorride, ma non so se con la stessa intenzione con cui lo faccio io. Forse è solo cortesia. Forse le sono solo simpatica. Chissà. Non porta la fede, quindi non è sposata. Del resto è sempre sola. Ma potrebbe avere un uomo che vede alla sera, anche se l'impressione che mi dà è quella di una donna solitaria. Probabilmente per scelta, perché non ha lo sguardo afflitto. Anzi, mi rimanda una luce di chi è sereno e sicuro di sé. Non conosco il suo nome. Non glielo ho mai chiesto. Non potevo farlo nella mia posizione di cameriera di questa trattoria del centro. Le elenco tutte le pietanze del giorno. Cerco di metterci dell'interpretazione, come se recitassi una poesia. Lei mi guarda attenta e divertita. Alla fine pare indecisa tra un'insalatona, dice che deve dimagrire, e un piatto di tortellini in brodo. È tentata, ma alla fine non cede. È risoluta, si immola al cibo ipocalorico. Tra me e me penso che potrebbe mangiare anche un quintale di tortellini, ma ai miei occhi sarebbe sempre bellissima. Però al bicchiere di vino non rinuncia mai. Un calice di rosso color rubino. Glielo porto senza che lo chieda. Ormai lo so. Non fa nulla mentre l'aspetta l'insalatona. Non guarda il cellulare. Non ha alcun tic nervoso. Non cerca di riempire di qualcosa questi minuti d'attesa. Se ne sta lì, tranquilla, mentre osserva gli altri commensali seduti ai tavoli. Lo fa senza farsi notare. Non fissa con insistenza a nessuno dei presenti. Le porto anche del pane, ma non lo sfiora nemmeno. Che determinazione! L'avessi io. Ma oggi quei tortellini in brodo sono talmente buoni. Li ho assaggiati prima e ho fatto pure complimenti a quello scontroso dello chef che ho deciso di osare. Fare qualcosa senza senso, in effetti. Ho attraversato la sala tenendo in mano il piatto fumante che emanava un profumo che, per me, è meglio dello Chanel numero 5. Mi sono fermata di fronte a lei che mi guardava perplessa e ho posato quella prelibatezza sul tavolo. Lei prima ha guardato i tortellini, poi ha guardato me e per qualche secondo nessuna delle due ha parlato. Nemmeno dopo, a dire il vero. Ma mi ha sorriso divertita. Ha preso la posata e ha iniziato a mangiare con gusto, senza fretta, soffermandosi su ogni singola cucchiaiata. Ho girato i tacchi e sono tornata dietro al banco. Lei non mi vedeva, ma io ero felice di averla resa felice. Non ha preso il caffè, non lo ordina mai. Ha raccolto le sue cose, le ha riposte con calma e nell'ordine previsto nella borsa, ha ripiegato il tovagliolo ed è venuta a pagare il conto. Ho quasi dato una spinta al capo per toglierlo di mezzo e avere ancora qualche minuto con lei. Lui mi ha guardato, ha scosso la testa e si è levato di mezzo. Ho tirato le somme. Lei ha estratto dalla borsa firmata il portafogli. Mi ha consegnato i soldi giusti fino all'ultimo centesimo, come sempre, come ogni giorno, dal lunedì al venerdì. E poi mi ha rivolto un grande sorriso. Grazie, mi ha detto. Mi sono talmente emozionata che non sono riuscita a spiccicare parola. Solo una frana. L'ho guardata mentre si avviava all'uscita. Il capo mi fissava e continuava a scuotere la testa. Mi ha gridato persino, sveglia! Ci sono i clienti da servire! Che gran rompipalle! Quando la porta si è chiusa alle sue spalle, mi sono ributtata nella mischia dei tavoli e clienti impazienti. E aspetto domani, stessa ora. Mi chiamo Alice, faccio la cameriera e amo quella donna. Bene, spero di essere riuscita a incuriosirvi. Se deciderete di tuffarvi fra le pagine dell'opera di Stefania Convalle, buona lettura! Io vi saluto e ci vediamo presto con un nuovo episodio della narratrice di sogni. Ciao!